Buonasera. Abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica innanzitutto la nostra soddisfazione per l'esito felice delle elezioni dei nuovi Presidenti delle Camere. L'Italia ha vissuto una grande emozione di fronte a quella che possiamo definire una prova di buona politica. Fare politica di fronte ai drammi e alle speranze dell'Italia, questo è il metodo con cui dobbiamo approcciare anche la questione del Governo, reagendo con durezza a coloro che immaginano di trascinare il nostro Paese in una infinita campagna elettorale, a coloro che non hanno la percezione di quali siano le urgenze, i drammi, le necessità scritte nell'agenda della realtà dell'Italia di oggi. Una questione sociale che si esprime talvolta attraverso episodi di vera e propria disperazione. La politica deve sentire il dolore dell'Italia, la politica deve rispondere positivamente alla speranza di un grande cambiamento. Questo cambiamento ha a che fare con la capacità di avere coraggio, di superare questo momento di avvitamento del sistema politico italiano con coraggio, andare incontro al cambiamento. Il centro-sinistra ha avuto una vittoria non piena nella ultima competizione elettorale e tuttavia ha avuto una vittoria piena alla Camera dei Reputati e forza maggioritaria nel Senato della Repubblica. Il centro-sinistra ha vissuto preventivamente una competizione interna sull'indicazione del candidato Premier. Noi pensiamo che la prova di offrire al Paese è un programma e un governo che possa interpretare nella forma più innovativa le istanze di cambiamento rispetto all'On. Bersani. Questo è quello che abbiamo detto al Capo dello Stato e abbiamo espresso gratitudine a chi da una postazione come quella del Quirinale ha diretto con saggezza la vita della Repubblica a partire dalle proprie competenze, dalle proprie prerogative. Lo si dice talvolta con formula da cerimoniale custode dell'unità nazionale e custode dei valori della Costituzione Repubblicana. Noi lo vogliamo dire nella forma più sincera e più sobria possibile. Per questo abbiamo espresso al Capo dello Stato non solo le nostre opinioni ma anche la nostra gratitudine per come egli ha svolto il suo ruolo. Grazie.